Il profeta ha portato in vantaggio la Lazio Ragazzi alziamoci in piedi La Lazio è sola in testa alla classifica Il gran gol di Hernades Il brasiliano Che dà il 5 alla raccattapale Tiene la porta E la Lazio che va in vantaggio Lazio in vantaggio a Bari ragazzi Al settimo minuto Il profeta ha colpito Alziamoci in piedi 200 tifosi della Lazio a Bari Scattano in piedi come le aguie e borano Eccolo il destro del profeta Sotto le gambe di Ciri E adesso Concentrazione assoluta Eh ragazzi La passa per Flockeri L'Ikstein dal fondo cerca il cross Ci riesce La palla sorvola Mauri è solo dall'altra parte Mauri Il gol della Lazio Il gol della Lazio Il gol della Lazio Oddio che ha segnato Froccani Sergio Froccani Il reddoppio della Lazio Tutto questo Al quindicesimo minuto Un rimbalzo che ci favorisce con Froccani Che sulla traiettoria La mette alle spalle di Cilè Clamorosa Bari La Lazio reddoppia con Froccani Eccolo il cross di Licksteiner Il rinvio E poi Mauri che incrocia Il tiro E Froccani 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 Raddoppia per la Lazio Secondo gol della Lazio Con Froccani Un pizzico di fortuna che non guasta Alla grande ragazzi 2-0 2-0 per la Lazio Grazie a tutti Grazie a tutti